Antonio Vivaldi è stato uno dei compositori più fertili e originali del Settecento. La sua ricchissima produzione, dimenticata dopo la sua morte avvenuta 280 anni fa, è stata riscoperta solamente due secoli dopo, riportando così alla luce le sue spiccate doti di inventiva, brillantezza e fantasia. Ma il nome di Antonio Vivaldi è legato indissolubilmente a Venezia e soprattutto a una particolare istituzione, l'ospedale della Pietà, come viene chiamato da oltre sei secoli l'antico istituto degli esposti, oggi istituto provinciale per l'infanzia Santa Maria della Pietà. A questa istituzione Vivaldi dedica la gran parte della sua vita, quindi questo nostro viaggio alla scoperta di Vivaldi, un veneziano illustre, non può che partire proprio dalla Chiesa della Pietà, che si trova oggi a pochi passi da Piazza San Marco. Ci troviamo nella Chiesa della Pietà a Venezia. Questa non è propriamente la chiesa di Antonio Vivaldi perché fu costruita dopo la sua morte. Non essendo questa la chiesa sua dove eseguì le sue musiche, dovremmo riferirci a una chiesa precedente. Era una chiesa molto più piccola, con le cantorie sopra l'altare maggiore, non ai lati della chiesa come in questa nuova chiesa, ma un coro sopra l'altare maggiore di una piccola chiesa, dieci metri di altezza, dieci metri di larghezza e venti di lunghezza. Questa è una chiesa che ha quasi il doppio delle dimensioni e anche il triplo dell'altezza. Tanto è vero che alla sua inaugurazione è stata criticata la sua acustica perché le voci avevano un ritorno di eco fastidioso per gli intenditori. Questa non è la chiesa di Antonio Vivaldi, ma possiamo dire che un po' di Vivaldi c'è ed è documentato dal fatto che è stata disegnata dall'architetto Giorgio Massari quando Vivaldi era in attività. La sua fama era tale che documenti ufficiali ricordano che le porte della chiesa venivano aperte per poter diffondere la musica dell'interno della piccola chiesa al di fuori dove c'erano delle barche sul canale che era molto vicino potessero assistere e ascoltare la musica. La chiesa era piccola per cui Massari la fa tanto tanto grande. Nell'antica chiesetta rimangono solamente pochi dettagli nell'edificio adiacente alla chiesa odierna. Qui si può vedere uno scalone monumentale a chiocciola soprannominato scala della musica proprio perché conduceva alla sala dove le put del coro cantavano e suonavano. Ma Antonio Vivaldi è nato in questo sestiere ed è qui che vivrà la maggior parte dei suoi anni. Antonio Vivaldi nasce nella parrocchia della Pietà San Giovanni in Bragora. Nasce nel 1678 da Giovanni Battista che è musicista, violinista, a San Marco, a Cappella Ducale, il cui stipendio vento educati all'anno pochissimo e lui oltre al primo figlio che è Vivaldi, primo genito, avrà presto altri otto figli di cui due moriranno per cui rimangono durante la vita del primo genito Vivaldi. Anche la responsabilità di aiutare il papà a mantenere sei figlioli minori. Questa è un po' la situazione della famiglia di Vivaldi, una famiglia importante che influirà molto, specialmente da parte del papà e un po' anche dalla mamma che lo ha partorito in pericolo di vita, per cui si crede che abbia fatto un voto, ma non ci sono documenti che lo affermano, di offrire il primo figlio al Signore dedicandolo appunto alla vita sacerdotale. Cresce con questa educazione al sacerdozio, prima nella parrocchia, apprende latino, apprende i primi insegnamenti dell'italiano, apprende anche la matematica, i primi appunti di musica, per poi passare con il chiericato a 15 anni, con la chierica comincia ad appartenere all'ordine ecclesiastico. A 22 anni viene fatto diacono e a 25 viene fatto sacerdote nel 1703. È noto che Vivaldi soffriva di asma, che a quei tempi poteva essere anche fatale, quindi è stato dispensato dal diremessa. Contemporaneamente però, e con ottime probabilità fin dai suoi primi anni, Vivaldi si occupava anche di musica, inizialmente solo ascoltandola a casa, ai concerti in basilica o persino a teatro, e poi diventando anche insegnante di musica. Sarà il maestro di coro Francesco Gasparini a invitare i governatori della Pietà a prendere in considerazione le abilità del giovane Vivaldi. I governatori così chiamati, che sono nobili o ricchi borghesi o anche parte del clero veneziano, che reggono tutti insieme l'ospedale, decidono appunto di assumere Antonio Vivaldi maestro di violino. Qualche anno dopo, nel 6, lo fanno anche, lo promuovono, maestro di viola all'inglese, che vuol dire una specie di violoncello o viola da gamba con un violino un po' più grande, con più corde. Vivaldi comincia a fare concerti e ad insegnare alle figliole, che sono queste povere bambine non legittimamente nate, probabilmente la maggior parte da prostitute, ma anche da famiglie qualsiasi, il cui onore esige che vengano abbandonate dalla mamma. E proprio questa è la missione della pietà, accogliere quelle neonate e quei neonati che venivano abbandonati oppure uccisi, perché frutto di amori illegittimi o di prostituzioni, e dare loro prima di tutto un'appartenenza e poi anche la possibilità di avere un futuro. Ogni figlio veniva accompagnato da un segno di riconoscimento, immagini sacre, piccoli oggetti, disegni che venivano divisi a metà. Una parte rimaneva alla madre e l'altra al figlio. Solo con questo segnale le madri avrebbero avuto la possibilità di riprendere con sé il figlio. In realtà pochissime madri tornarono in seguito, anche perché questo avrebbe significato rimborsare alla pietà tutti i denari spesi per mantenere e istruire il figlio. In anni in cui la mortalità infantile era comunque altissima, l'ospedale della pietà si impegnava a sfamare, vestire, istruire un alto numero di bambini. I ragazzi venivano poi avviati ai mestieri, mentre per le donne, le più dotate in particolare, iniziava la carriera musicale. Proprio a queste ragazze Antonio Vivaldi darà lezioni di violino. Antonio Vivaldi non fa musiche per ragazzine, per bambine, ma per donne mature, sia nell'età che nella musica. Le sue famose allieve, che saranno poi nominate solo col nome, perché il cognome dei genitori non ce l'hanno, nelle stampe delle musiche, di tutte le opere, edite, come sappiamo, dagli editori olandesi. La prima opera stampata, l'opera prima, era stata iniziata nel 1704 anche a Venezia ed era stata appunto dedicata a queste signore, Prudenza e vari altri nomi. Nelle altre opere stampate in Olanda avremo poi il nome delle famose Anna Maria dal Violin, la Chiaretta, che è una sua discepola. Anna Maria famosa in tutta Europa anche attraverso queste stampe, stampe delle opere di Vivaldi che verranno conosciute anche da Bach, il quale farà delle riproduzioni per organo di alcune suonate. La fama di Vivaldi era più alta tra i grandi competenti di musica, soprattutto quelli fuori da Venezia. Famose erano anche le figlie di coro, appunto queste incredibili musiciste, polistrumentiste e coriste, protagoniste delle opere di Vivaldi. Le figlie di coro si distinguevano dalle figlie del Comun, che facevano delle attività lavorative più umili, tanto che venivano persino nutrite in maniera diversa, con pasti più sostanziosi. La Pietà investiva molto nella loro educazione, venivano infatti istruite nella teoria, nel canto e nello strumento. A loro era concesso anche di migliorare la loro posizione all'interno dell'organizzazione gerarchica della Pietà, diventando quindi delle figlie privilegiate, delle sottomaestre, ma anche delle maestre. Certo che a loro non veniva concesso di sposarsi se non dopo i 40 anni e con il divieto di continuare a fare musica una volta uscite dalla Pietà. Quindi, come è facile immaginarsi, molte di loro rimasero per tutta la vita all'interno dell'istituzione che le aveva accolte. Va anche detto però che per queste donne essere delle figlie di coro ha rappresentato un'opportunità di realizzazione personale. Diventarono infatti delle virtuose cantanti e musiciste. Tra tutte vale la pena di ricordare la già citata Anna Maria. È stata la più dotata tra l'allieve di Vivaldi e anche la più famosa tra le figlie della Pietà. Dai documenti apprendiamo che Vivaldi in persona le comprò un violino e che quando aveva solo 16 anni le è stato permesso di uscire dalla Pietà per andare a suonare in un'altra chiesa. In seguito fu acquistato per lei un prestigioso violino del liutaio Sellas. Acquisti di questo livello non erano frequenti per l'amministrazione della Pietà, perciò Anna Maria doveva essere diventata una virtuosa di alto livello su cui l'istituto senza dubbio puntava. Vivaldi compose ben 25 concerti per lei ma non fu l'unico. Tartini, Dalai e Brusa scrissero le loro note per la celebre violinista. Di lei sappiamo anche che suonava altri strumenti, la viola d'amore, il liuto, il violoncello ma anche la tiorba, il mandolino e il cembalo. Nel 1737 smise la carriera di musicista perché è stata eletta maestra di coro della Pietà, un riconoscimento davvero pregiato. Poi di lei si perdono le tracce fino alla data della sua morte avvenuta nel 1782. Detto questo bisogna ricordare anche che la componente femminile della Pietà non si esauriva alle sue più celebri figlie. Questa specie di piramide di donne all'interno dell'ospedale dove c'è una priora che ha il comando di tutte le figliole, ci sono le maestre che vengono elette dopo tanti voti della congregazione dei governatori a governare piccoli gruppi di queste figliole, sia quelle del Comun, cosiddette lavoratrici, ma specialmente quelle del coro. Voi dovete immaginare che nella chiesa attuale di Massari c'erano 600 donne e 400 maschi. I maschi non venivano, non erano obbligati ad entrare nella messa da sopra ma potevano assisterla da sotto. Nelle feste maggiori usano ambedue i cori. Si parla di due cori perché anche Vivaldi, nella chiesa dove lui eseguiva le musiche, aveva cercato di ordinare verso 1728 una specie di prolungamento del coro ai lati in modo da poter disporre di due cori e due orchestre, cioè due cori di voci e due cori di strumenti. Questo perché la sua musica ha la novità, diciamo tutta sua, esclusiva dell'ospedale della Pietà nei confronti degli altri conservatori e forse anche nei confronti di tutte le orchestre dell'Europa del tempo. Qui alla Pietà dunque c'è questa specie di vicendevole vantaggio che ha Vivaldi di avere un coro doppio di strumentiste e di cantanti e nello stesso tempo il vantaggio che ha la Pietà di avere un maestro di questo calibro che in tutta Europa diffonde i famosi concerti per vari strumenti, non solo per violino, strumenti che soltanto la Pietà poteva esibire. Il clarinetto, il flauto, come era del liuto, nella sua forma grave, grave, come vediamo anche nell'affresco del tiepolo. Ed è proprio dall'affresco del tiepolo sulla volta della chiesa, restaurato nel 2015, che si possono trovare testimonianze di alcune delle molte donne che abitavano questi luoghi. I putti, i ritratti nelle nuvole, non hanno dei lineamenti infantili, ma sembrano piuttosto delle donne mature. Si ritiene infatti che il tiepolo, che ha realizzato velocemente quest'opera, abbia trovato ispirazione dalle donne presenti nell'istituto in quel periodo. Ovviamente Vivaldi non vide mai l'affresco del tiepolo perché nel 1741 morì a Vienna, dove stava lavorando alla corte di Carlo VI. La sua produzione fu immensa, ma tutta la sua musica cadde in un profondo oblio e fu riscoperta solamente due secoli dopo. Le informazioni che oggi noi abbiamo su di lui sono il frutto di un grande lavoro di recupero e di studio. Vivaldi dalla folla era chiamato da tutti il prete rosso. La ragione certa e documentata non è il fatto che le fanciulle, le bambine dell'ospedale della pietà, per distinguersi dagli altri ospedali, vestivano di colore rosso. Gli altri ospedali avevano altri colori, i dereliti bianco, gli incurabili era il colore azzurro e i mendicanti, il colore bruno. Il nome rosso gli viene, gli viene addirittura dal papà che era chiamato nei documenti ufficiali, quando era per esempio maestro ai mendicanti, viene chiamato Giovanni Battista Rossi. È il colore dei capelli. In altri documenti infatti lui è chiamato anche nella cappella marciana, è chiamato Gian Battista il rossetto, che voleva dire rosastro di capelli. Ecco la ragione quindi vera, ufficiale, è quella che lui aveva i capelli russi. Comunque lui è sempre stato legato alla pietà come è stato legato alla sua famiglia per tutta la vita.